Ciao ragazzi, sono Frexer e oggi siamo su un nuovo video prank a mia mamma, il primo scherzo in questo canale e vi dico che è epico. Questo scherzo consiste, praticamente io ho fatto della, diciamo, merda finta, no? E farò credere a mia mamma che mi sono cagata addosso e voi vedrete la sua reazione in live. Diciamo. Io l'ho già registrato, scherzo, dura poco però fidatevi che è epico. E voi direi buona visione. Ciao. 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 Il prank è durato poco Perché appunto Cioè È durato poco però è una cosa epica Lasciamo Visto che è un video molto epico 15 like Se proprio mi volete far contento 20 Perché è una cosa epica E noi Cioè a 20 like un nuovo prank Forse a mia sorella Chi lo sa Che là si vede no E poi ragazzi Se il video vi è piaciuto lasciate appunto un mi piace E noi ci rivediamo nel prossimo video Bella ragazzi